Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. L'alta pressione della Zorra è tornata ad invadere il Mediterraneo a regalarci tempo stabile praticamente ovunque e soprattutto un momentaneo aumento delle temperature. Nel corso di questo giovedì 24 febbraio assisteremo a una giornata stabile, quasi primaverile su tutto l'Abruzzo, cieli sereni ovunque, specie al mattino oppure tra pomeriggio e sera in arrivo nubi medio-alte caratterizzate da cirri che non porteranno fenomeni. Temperature in aumento massime tra 9 e 15 gradi, minime tra 1 e 7 gradi. Grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento.